Good morning Juventus! Chi segue il mio canale da qualche tempo sa che io non amo per nulla le pause delle nazionali. La motivazione è semplice, spesso si fanno male e quindi poi dopo ti prendi i rischi annessi connessi e tu magari hai un deficit o un handicap nella tua squadra di club per motivi che a te non interessano perché al limite uno può anche essere felice che un giocatore della Juve vada in nazionale italiana ma che vada in altre nazionali ne può fregare di meno, a me non me ne frega niente neanche della nazionale italiana, a me non c'è nessuno meglio è, poi c'è visto meno Juventini ci sono più schifo facciamo. L'altro motivo è il fatto che l'allenatore non può migliorare gli schemi, la tattica, la tecnica soprattutto all'inizio della stagione e soprattutto ancora di più quando l'allenatore è nuovo perché chiaramente avendo dovuti tardi per la Coppa America e gli europei averli soltanto per fare le partite al volo poi mollarli per due settimane è negativo. Fortunatamente invece in questa pausa della nazionale che casca a fagiolo invece, guardate un po', è la prima volta che io sono felice che c'è una pausa della nazionale per un motivo altrettanto semplice di quelli che ho prima enunciato, ovvero la maggior parte dei giocatori che devono assimilare gli schemi di Tiago Motta che sono arrivati un po' più tardi non saranno convocati. Vlaovic che deve assolutamente imparare bene i movimenti del centrocampo per la nuova Juve non andrà in nazionale per motivi familiari, non sto a sindacare quali siano o quali non siano. Douglas Lewis e Bremer, quel coglione dell'allenatore del Brasile, fortunatamente non li convoca, quindi Douglas Lewis avrà tutto il tempo per allenarsi e anche lui imparare gli schemi. Turam non verrà convocato, Consensão non verrà convocato, ma soprattutto non verrà convocato Coop Medes. Per cui noi il centrocampo che dovrebbe essere in teoria titolare, più Locatelli che non sarà convocato, sarà a totale disposizione del nostro allenatore. Signori, è importante perché in queste due settimane lui potrà sviluppare schemi, dare insegnamenti, vedere come si muovono, insomma creare quell'amalgama fondamentale per un centrocampo tutto nuovo, perché signori dopo tre giornate, dopo tre giornate che abbiamo già giocato e disputato, la Juventus non ha mai schierato, mai schierato contemporaneamente Coop Medes, Turam e Douglas Lewis, che sono, a detta di tutti, il centrocampo titolare del presente e del futuro della nostra Juventus. Per cui casca pennello, anche perché a rientro dalle nazionali non andremo a giocare contro l'Inter, contro il Milan, contro il Napoli, contro la Roma che abbiamo già giocato ieri o altri, no, andremo a giocare ad Empoli, che è una partita difficile, perché il buon Daversa, che io ho avuto modo di apprezzare qui a Parma, è veramente un tecnico in gamba e le squadre di Daversa sono difficilissime da battere, perché le mette in campo veramente, è un, guardate, Daversa è un allievo di Conte, non c'è neanche bisogno che ve lo dica, e quindi lui, i giocatori li mette proprio in campo come metti i pezzi sulla scacchiera, per chi ama gli scacchi come me, per esempio, vale questo concetto. Per cui signori, la Juventus ha un'opportunità da cogliere, perché noi ovviamente non dobbiamo battere in testa, dobbiamo assolutamente riprendere il cammino, andare a giocare a Empoli, cercare di fare i tre punti, perché poi la settimana successiva, dove io, incorsando l'Italia, dovrei essere allo stadio, un salvo imprevisti, ci sarà Juventus-Napoli, che sarà una partita molto significativa, sottolineo, molto significativa, perché il Napoli, e lo abbiamo visto ovviamente sabato sera, Conte ha più culo che anima, perché, scusate, sarà anche perché io sono di Parma, anche se non tifo Parma, ma se c'era una squadra che meritava, strameritava di vincere, era il Parma, non certo il Napoli, pali, traverse, occasioni a go-go, poi però il Napoli ha la botta di culo, perché di botta di culo si tratta, che Suzuki impazzisce, esce a valanga sul giocatore del Napoli, era stato ammonito per le solite ammonizioni della perdita di tempo, che io toglierei, perché basta redarguirlo, il portiere, non c'è bisogno che tu, se perde tempo, lo ammonisci, glielo dici due volte, la terza volta lo ammonisci, non l'ha neanche avvertito, l'ha ammonito direttamente, e poi, secondo ammonizione, è espulso, lì il Parma non è più esistito, perché a me risulta che Del Prato non sia un portiere, poverino, e quindi, insomma, capite che in balia del Napoli, che attaccava da tutte le parti con un uomo in meno, e in porta non un portiere, ma un giocatore, era matematica, era scritto, io parlavo della partita con mia moglie, gli ho detto adesso il Napoli come minimo vince 2-1, purtroppo ho avuto ragione, quindi attenzione perché Conte è sì bravo, ma ha più culo che anima, e questo va detto, perché non gli va mai male, se gli doveva andare male, non gli va mai male, fortuna che gli è andata male a Genova, perché io, signori, non ti perché, che ve lo dica, non potrò mai amare il Napoli e non amerò mai più Conte come l'ho amato ai tempi in cui ero la Juventus, perché sarà un professionista finché volete, ma è andato ad allenare le due squadre che mi stanno più sulle balle, a parte il Bologna, in Serie A, ovvero l'Inter e Napoli, per cui, siccome i napolitani interisti ci odiano, io non odio nessuno, però non mi piacciono, mi stanno sulle balle. Per cui, adesso, Tiago Motta avrà a disposizione molti dei giocatori più importanti, peccato per Nico Gonzalez, peccato per Nico Gonzalez che è stato convocato, da parte dei ragazzi dei giocatori forti, ci sta, c'è andata di lusso che quelli che ho citato prima non vadano in nazionale, così avrà modo, avrà modo e tempo di migliorare il tutto per farci trovare pronti appunto alla ripresa, anche perché, signori belli, ah sì, questa è una cosa che dico con grande passione, con grande voglia, con grande soddisfazione, con grande gioia, appena rientriamo dalle nazionali, finalmente torneremo a giocare delle partite di Champions League e come minimo saranno otto e la prima col PSV Endoven a Torino. Nota di cronaca, la Juventus è la prima volta dopo tanti, 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 tanti anni, andate a guardare, che la prima partita, anche se adesso non è più a Gironi, ma è un calendario unico, ma è la prima volta che la Juventus, la prima partita di Champions League, la gioca in casa e non fuori, la prima volta. Siccome quando abbiamo giocato la prima fuori ha sempre portato sfiga e quando abbiamo giocato la prima in casa ha portato fortuna, e non dico altro, incrociamo le dita e speriamo che vada bene, anche perché se vinciamo con l'Eindhoven, col PSV, andiamo a tre punti, quindi saremo primi in classifica. Sarà bello vedere la Juve prima anche in Champions League, perché ci sarà il tabellone, poi vedrete il format che creerò per la nuova Champions League, spero che vi piaccia. Insomma, signori, adesso godiamoci queste due settimane di total relax dalla Juventus, il mercato finalmente è finito, non c'è più, quindi non ci saranno menacce, vedrete che adesso si parlerà dell'esodio di Fonseca, Rabiot che deve trovare la squadra, che lo volevano tutti, allora lo volevano tutti, difatti senza squadra, e poi attenderemo con piacere e con ansia la partita con l'Empoli, che secondo me non vorrei dire una sciocchezza, non è ancora uscito il calendario, si giocherà o di venerdì o di sabato, perché la Juventus giocherà 21 settembre martedì, martedì col PSV, per cui la Juve sicuramente giocherà o di sabato o di venerdì, se chiederà l'anticipo. Bene, Tiago Motta, mi raccomando, lavora solo, dai soltanto un paio di giorni di riposo alla truppa, che ne hanno bisogno perché li hai fatti faticare, e poi da mercoledì quelli che sono rimasti li alleni e li prepari. Finalmente possono fare una preparazione ad hoc, non più in agosto, e soprattutto con i giocatori più importanti della nuova rosa della Juventus, è Football Club. Good morning, Juventus!